John Borno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, volevo fare un video velocissimo per dire una cosa velocissima Allora per chi si stesse chiedendo innanzitutto dove parlerò di Inter e Lazio di questo pomeriggio In un video di questa sera dove farò il bar sport anche con la Fiorentina Perché in questo preciso istante, e il video lo sto registrando prima che le due squadre giochino Cioè che tutte le squadre del pomeriggio giochino, quindi ho visto solamente il Milan Però ve lo caricherò dopo Detto questo, ragazzi il Milan è stato preso a pallettate Pallettate, proprio pallettate Non è motivo di dire che è schifo, il Milan fa schifo e tutte queste cose qua Perché chi lo dice è stupido Il Milan deve trovare un'amalgama E non l'ha ancora trovata Ora, il risultato è veramente inguardabile per quanto riguarda il Milan Perché di tre partite fuori casa, due ne ha persi Ha preso sei reti e ne ha fatta una E ha affrontato Lazio e Sampdoria che sono due squadre tanto preparate Ma non sono né la Juventus né il Napoli Che per tutti sono le due squadre più forti del campionato Quindi se tu vuoi arrivare in Champions devi fare di più E credo di non dire blasfemia dicendo questo Settimana prossima la Roma andrà a Milano a giocare contro il Milan Ho letto alcuni tifosi, sia romanisti che non Che dicono, eh ma il Milan avete visto, è esploso Cioè in senso, non è, chissà che Ora ragazzi andiamo lì, cerchiamo di vincere Attenzione, perché il Milan non gioca bene fuori casa Perché davanti al proprio pubblico Chi ha giocato, ha giocato, ha fatto tre vittorie Non mi è venita di campionato, non mi è venita di No ragazzi ha giocato, no Ha fatto tre vittorie, quindi bisogna stare zitti E bisogna provare a fare il massimo a Milano Detto questo, il problema del Milan, e lo continuerò a ripetere È che ha fatto un mercato della Madonna Ma puntando su occasioni E non puntando certamente su Ciò che gli serviva realmente Per questo poi vediamo in campo Abate Vediamo in campo Zapata Perché al di là di tutto non si può E molti dicono, vabbè ma si è rotto conti Ho capito, ma non puoi tendere come primo panchinaro Abate E questo si vede perché gli infortuni possono accadere Sfortuna ma possono accadere Questo è stato un grave errore in fase di mercato E lo ribadirò Cioè io vado sempre a parlare di Kalinic Perché è stato quello preso dopo Che per me Kalinic è fortissimo Però al di là di tutto ragazzi Non è questo il discorso Il discorso è che O Andresilvo, o Kalinic Uno dei due non andava preso Al di là della terza competizione Avevi Cutrone, che era già esploso Non dico che è esploso intotalmente Ma era già esploso Avevi uno fra Kalinic, Andresilva Scegliete voi, prendevi un vecchio Uno giocatore, un giocatore 33enne Capace di farti quei 6-7 gol al campionato 8, capace di giocare bene in Europa League Un, per dire, un Terò Ma anche un Duvanzapata Che non è nemmeno vecchio Ma segna Pagato 10 dalla Sampdoria 11, quanto è stato pagato Per dire, ecco E con quei soldi andavi a puntellare i ruoli che ti servivano Il Milan ne risente tanto Oggi il Milan ha giocato male Qualcuno dice Ma abbiamo lasciato 50 milioni in panchina Perché avete optato male per il mercato Perché avete ruoli Avete fatto un mercato ottimo Sotto il punto di vista degli acquisti Questo non lo mette in dubbio nessuno Però se tu mi vai a comprare Che dire, per dire Tre giocatori tutti nello stesso ruolo Pagandoli tanto È normale che uno o due alla volta restano fuori Non possono giocare tutti insieme Detto questo ragazzi Non guardiamo solamente il Milan Facciamo grandi complimenti alla Sampdoria Che ha una partita in meno Così come la Roma Ma una partita in meno da giocare in casa Ce la metteranno tutta E al di là di questo Stanno facendo una stagione della Madonna Da Champions per il momento ragazzi Un andamento da Champions Non inferiore a come si sta comportando la Lazio Il Milan La Roma L'Inter La Fiorentina Anzi superiore alla Fiorentina L'ha anche battuta Il Milan che fra l'altro per ora ha battuto Il Milan E ha battuto anche la Fiorentina E non è poco Sta giocando molto bene Ha distrutto il Milan Il Milan ha fatto oggi Zero tiri in porta Ripetisco Questo non vuol dire Che il Milan ha fallito in campionato Assolutamente no Siamo all'inizio Avrà tempo E possibilità di recuperare Ciò che sta sbagliando E Montella è bravo Deve solamente mettere in chiaro Alcuni punti E capire come si vuole muovere Poi tutto verrà da sé Detto questo ragazzi Vi ringrazio come sempre Per la visione Se vi è piaciuto Vi lascio un mi piace In caso contrario un dislike Fatemi sapere qui sotto E cosa ne pensate come sempre Maestro.0 qui sotto in descrizione Come sempre vi ringrazio Per la visione Buon shalala Ci vediamo ad un prossimo video Ciao